Da Taverna a Gubitosa, passando per Todde, Ricciardi e Turco, oggi l'ex premier rivela il nuovo direttivo che lo affiancherà al vertice del movimento. Il ritratto dei cinque vicepresidenti, molto sud, qualche di Maiano rinnegato e vecchi urlatori convertitisi sulla via di Voltura a Rappula. La notizia diventa ufficiale poco dopo le sei del pomeriggio, quando Giuseppe Conte fa il grande annuncio in assemblea congiunta con tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Si apre così una stagione di rinnovamento, per raddrizzare la grave crisi di consensi emersa anche dall'ultima tornata elettorale. E già nel segno della leadership dell'ex premier, corraggi, Di Maio e Fico al Comitato di Garanzia. Oggi, il team viene completato, ecco chi sono i cinque viceconte alla presidenza della M5S. Il primo nome è quello della vicepresidente del Senato, 52 anni, romana di Torre Maura e con un ampio cursus honorum di tutto lo scibile grillino della prima ora. Quindi Novax convinta ben prima del Covid, antagonista dell'Iuro con tanto di spot per il ritorno alla lira e del linguaggio politico tradizionale con tanto di figide na mignotta rivolto agli allora rivali del PD. Non potevano mancare nemmeno gli scivoloni sulle cose buone del ventennio e sul complottismo puro, da Mussolini che avrebbe creato lo stato sociale discorso tenuto durante una seduta al Senato del 2014 all'accusa i soliti poteri forti, rei di aver fatto vincere la raggia Roma, sic. Eppure, come molti esponenti della classe dirigente pentastellata, Taverna è rientrata su binari governisti nel corso degli anni dell'alta carica istituzionale ricoperta. Grazie a tutti.